Mai. Adesso lascio la parola al sistema un attimo, il computer. Io penso che sia un bel lavoro, no? Poi negli dettagli ci dirà, ci dirà Raffaele, la luce non è il maschio, quindi il giorno che quando potremo in processione si vedrà meglio. Ecco, un particolare importante, è un restauro, cioè è una statua antica e quindi magari ci si aspettava di vederla, come dire, i colori più omogenei, ma non è una statua nuova, quindi non l'ha di fatto nuova, perché i segni del tempo comunque devono rimanere, perché è una statua di 200 anni. Lui ha tolto i vari strati, che l'ha pulita e poi tutti i vari strati. Comunque adesso nel dettaglio ci spiegherà ne tanto.